Sono molto felice per il mio debutto in Serie A, potevo solo sognare una partita così, ho giocato 30 minuti, ho segnato un gol, sono soltanto un po' arrabbiato per il risultato finale. Non so cosa ci sia mancato per ottenere questa vittoria, forse siamo stati un po' sfortunati, abbiamo creato molte occasioni, purtroppo non siamo riusciti a vincerla. Giocare con Vasquez è davvero semplice, credo che sia uno dei migliori giocatori non solo nel Palermo ma in generale in tutta la Serie A. Per me è stata davvero una settimana fantastica, ho realizzato due gol con la Serbia, poi il gol all'esordio contro il Palermo, naturalmente continuerò a dare il 100%. Speravamo di avere 9 punti oggi ma ne abbiamo 7, va bene anche così, adesso andremo a Milano a giocarci le nostre chance in una grande partita. Speravamo di avere 10 punti oggi, adesso andiamo a Milano 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 a Milano,